ma se ce l'avessi davanti adesso se fossi in una stanza con dario no non valgono più le leggi ok non rischi un livello penale c'è una pistola e lui davanti cosa fai a spara di una roba del genere lo sai che hai detto ma raga è impazzito no è impazzito se te sei scemo detto che gli avrebbe sparato a dario verlo ma è impazzito felon